Expo Cook, perché? La pandemia ci ha insegnato che dobbiamo iniziare a tutelare il nostro territorio ad utilizzare i nostri prodotti, a cercare i nostri molini, i nostri grani antichi probabilmente ce ne usciremo, anzi sicuramente ce ne usciremo alla grande anzi vi dirò di più, io sono per la regionalizzazione della pizza un po' come il piatto tipico, la pasta, la pizza nel tempo diventerà regionale quindi il massimo impegno, coltivate i profumi e i sapori della Sicilia perché solo così potremmo fare la differenza sia in Italia che all'estero